Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Buongiorno, buongiorno! Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info che non ricorda più allà, dicendo a la gente, stanno dicendo a un mese, si il mese sigue recorriendo, è quello che noi chiamo che rispettiamo, che non si burle più di questo paolo, di Bolivia, di questa convocatoria, ogni sentimento, non è dicendo che è manipulato con nessuno, ogni autoconvocatoria, ogni sentimento, per questo stiamo chiedendo una elezione, limpia, sin succedere, limpiamente. Ma quanto vuole dire che si hanno avuto le elezioni? Solo voglio che se respete il 6 de settembre, però pagano il 14 de ottobre. Ma quanto vuole dire che non è possibile il 6 di settembre, perché non si potrebbe comprare con il crontogramma e il carattario electoral, hanno il conoscimento di questo, maneggiare questa informazione? Sì, lo vediamo. Sì, lo vediamo. Questa è una legge, la oblige, la faccia di non riesce, quando loro fuori, lo scopriano, lo scopriano, lo scopriano. Quali sono le prossime le scopriano? Questa è la ultima scopriano che farebbe una elezione, limpia.